Occhio che sta arrivando uno ha girato il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 E' un bandardo dentro Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Questa qui è una bella termica, calciante anche lei, mi spero ci può portare su, mi spero. Con tutte come canta, con sensazione alle orecchie e via. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Ok, per mezzo 4 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info La termica più tranquilla E' questa qua perciò Ci concentriamo Perchè era più tranquilla di tutto il volo che ho fatto fino adesso Con panorami stupendi abbiamo raggiunto i 500 metri intomodi Infatti là in fondo si vede l'esima, l'ebro, il tenice e tutta la pianura padara E' un'altra in volo E' un'altra in volo Queste quote Abbiamo un trocetto vecchio che rientrava E' un po' freddo ma riluppiamo Anzi Adesso l'abbiamo persa Adesso l'abbiamo persa La riprendiamo Ci stiamo andando dentro Adesso vi faccio vedere le cime che si vedono in fondo E' una La riprendita E' un po' freddo E' un po' freddo Iniersia Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info www.mesmerism.info